E se io volessi cavalcare l'onda degli ETF e un eventuale pump di Bitcoin nel prossimo mese senza rischiare tanto, senza mettere tanta carne al fuoco, avendo uno stop loss già definito, come potrei fare? Esiste uno strumento che ci dà questa possibilità e sono le opzioni ragazzi, oggi parliamo di quelle che sono delle strategie semplici, banali, assolutamente facili e replicabili da tutti per quanto riguarda lo strumento delle opzioni. Ho già fatto un video a riguardo, un video di spiegazione di che cosa sono le opzioni, ve lo lascio sulla mia testa e andatelo a vedere perché è importante, non potete comprendere quello che andiamo a fare in questo video senza aver studiato quell'argamento. Oggi un tema estremamente importante, strategia e formazione di trading, restate seduti sulla sedia e soprattutto 10 minuti di pura magia trading, pura magia anche crypto su Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, siamo vicini a quello che è il mese natalizio, rally di Natale, sì, rally di Natale, no. C'è un modo di sfruttare questo rally di Natale senza esporci eventualmente qualora Bitcoin dovesse crashare ed avendo uno stop loss già predefinito senza dover fare nulla e senza incorrere anche in quelli che sono gli zigzag del mercato che magari vi prendono lo stop e vi buttano fuori e poi parte un silurone in due giorni. Questo strumento c'è e sono le opzioni, oggi parliamo di due strategie sulle opzioni che ci potranno dare un po' di limpa in più, qualche strumento in più, vedremo anche i pro e i contro ovviamente dello strumento per cavalcare un eventuale pump proprio nel mese di dicembre. Qualora dovesse arrivare in anticipino la notizia sugli ETF, abbiamo visto MicroStrategy proprio nelle scorse giornate acquistare il massiccio più grosso investimento di Bitcoin in MicroStrategy proprio nelle scorse settimane. Perché all'inizio del mese, perché all'inizio di dicembre, perché prima della news degli ETF di Bitcoin sappiamo che MicroStrategy ragiona di lungo periodo ma è anche un acquisto dominante fatto a prezzi anche abbastanza alti intorno ai 37 mila dollari. Quindi sfruttare questo momento è possibile avendo un rischio controllato e limitato. Allora ragazzi iniziamo a parlare della struttura dell'exchange che andremo a utilizzare oggi che è CoinCall, tra le altre cose sponsor di questo video. Quindi grazie anche a CoinCall che ci dà la possibilità di dare questi video formativi che sono difficili da creare appunto ragazzi senza sponsor. Quindi vi lascio il link in descrizione se volete testare questo exchange, lo abbiamo iniziato a testare già da diversi mesi, è piccolino e sta evolvendosi ma negli ultimi periodi è diventato operativo per via di questa questione, cioè lo spread zero legato alle opzioni. Non è sempre zero, adesso vi faccio vedere come funziona ma tra le altre cose c'è uno spread anche molto basso per quanto riguarda i futures di Bitcoin per esempio che adesso si avvicinano a uno spread veramente piccolino. E questo è interessante andarlo a guardare proprio perché più è basso lo spread a bid and dusk meno paghiamo quando andiamo ad avere gli nostri eseguiti ed è anche indice di liquidità dell'exchange. Quindi l'exchange più ha liquidità più lo spread si avvicina ad essere praticamente nullo. Quindi CoinCall fa dei passettini avanti abbastanza rilevanti e secondo me piano piano si avvicina ad essere uno degli exchange di punta anche per questa questione legata alle opzioni. Tra le altre cose c'è una particolare offerta cioè il claim possibile di 05TH di position che in sostanza vi danno anche la possibilità di avere 10 CoinCall Credits che sono dei loro credit perché tra un po' uscirà anche il loro token e quindi poi verranno convertiti automaticamente in token. Vi lascio il link anche di questa pagina ragazzi dove trovate tutti gli step sono semplicissimi scaricare l'applicazione da mobile che è già arrivata per fortuna quindi si può operare anche in mobile e tra le altre cose poi seguirli ovviamente su Twitter insomma eccetera. Niente di anomalo serve il KYC ovviamente per avere questa promotion e la posizione poi di 05TH che corrisponderà più o meno a qualche dollarone ragazzi di bonus vi viene applicata vi viene regalata immediatamente. Vi lascio il link in descrizione prima strategia di oggi che andiamo a vedere tra le altre cose volevo farvi vedere questo ragazzi. Allora CoinCall ha fatto quella che è la sua academy che trovate ovviamente nella struttura qui andate a cliccare su academy di si apre l'academy a me è stato simpatico vedere che è stata realizzata in questa tipologia di grafica perché mi ricorda le prime grafiche di farming della DeFi e degli exchange insomma che facevano i DEX che facevano DeFi e che erano per esempio c'era mi ricordo il cake o farm eccetera insomma mi ricordava quella tipologia di grafica non so se qualcuno di voi ha avuto lo stesso flash è stato proprio simpatico di vederlo vabbè. Allora prima strategia la più semplice la più banale buying call option andremo a vedere questa cioè comprare un'opzione call. Allora le strategie che sono legate alle opzioni devono avere intanto una prima logica cioè lo scenario di base che noi andiamo a giocare. Immaginate di avere una partita un videogioco e noi giochiamo una tra virgolette a me non piace parlare in questi termini però è facile da comprendere ipotizziamo una scommessa tra virgolette contro il mercato. Qual è la scommessa che stiamo giocando? Primo punto che dovete sempre definire lo scenario cioè noi giocheremo uno scenario di bitcoin rialzista e questa cosa è importante perché se lo scenario cambia cambiano anche le strategie che con le opzioni potete andare a creare. Ce ne sono tantissime tra le altre cose nella coin call academy qui in practical strategies ne trovate veramente tante quindi tra le altre cose in questa academy è fatta in maniera discreta ovviamente parta poi la parte operativa dovete insomma un po' essere trader per fare dovete avere formazione per farle. Però qui sono analizzate tutte le strategie più comuni che sono presenti nell'ambito delle opzioni però lo scenario è la prima cosa. Allora se io ho uno scenario rialzista su bitcoin e dico da qui a un mese bitcoin supererà la soglia dei 40 mila dollari e poi fa il pump per esempio schizza su eccetera posso utilizzare lo strumento delle opzioni perché in quel caso lì l'opzione mi dà una possibilità cioè mi fa rischiare un importo fisso predefinito e non mi fa prendere lo stop dal mercato con gli stop hunting cioè mi dà la possibilità di evitare che il mio ordine venga presso da uno stop se magari io inizio a tradare per esempio il mercato lo faccio vedere da un punto di vista anche grafico. Eccoci sul grafico di bitcoin allora ragazzi immaginiamo per esempio di avere presso qui una posizione long su bitcoin per esempio in questa zona intorno alla 8-10 di novembre ipotizziamo che la nostra posizione long sia entrata qui in questa zona qui e che noi abbiamo messo uno stop loss intorno a questa zona quindi 35 mila dollari circa ok immaginiamo di aver messo qui il nostro stop adesso andiamo a inserire anche la scritta stop loss cosa succede nel momento in cui il mercato va a tradare in pratica questo nostro ingresso allora noi qui abbiamo avuto il breakout e quindi siamo entrati long vedete in questa zona perché c'era un ingresso long su questa candela quindi noi entriamo long a 35 mila e 8 mettiamo lo stop a circa 35 mila dollari dopodiché lasciamo andare il mercato cosa succede ragazzi succede che a un certo punto noi andiamo in guadagno vedete sulla posizione però però poi arrivano gli stop hunter che fanno questo sguiccino qui questo sguiccino qui ci manda in stop la nostra posizione e noi restiamo col cerino in mano è vero ci siamo protetti da un'eventuale fase di passista però gli stop hunter ci hanno presso la posizione e poi il mercato è andato verso la direzione che noi avevamo ipotizzato col nostro scenario quindi noi avevamo ipotizzato qui che il mercato salisse ed era giusta la posizione però gli stop hunter ci hanno giocato d'astuzia ci prendono lo stop in questo punto e il mercato se ne arriva poi a salire un classico che avrete visto insomma migliaia di volte vedete sulla sulla diciamo migliaia magari no però comunque decine di volte sulla alcune posizioni anche da trader eccetera perché poi alla fine vedete cosa è successo cioè qui noi siamo entrati long qui siamo stati stoppati ma poi il mercato ha continuato la sua fase long e saremmo ancora long in questo momento quindi direzionalità era corretta ma abbiamo preso lo stop hunting le opzioni in questo caso è l'acquisto di un'opzione call che è la strategia più semplice e banale della in questo caso sulle opzioni ci evita questo problema cioè ci dà la possibilità di partecipare a questo tipo di struttura rialzista senza avere il problema della presa dello stop cioè non possiamo essere presi in stop perché perché lo stop loss nell'acquisto di un'opzione è rappresentato dal costo dell'opzione ragazzi quindi noi acquistiamo un'opzione quello che paghiamo è il nostro stop loss quindi cosa succede che se l'opzione noi la portiamo a scadenza fino alla fine noi avremo sempre il titolo diciamo così all'interno del nostro wallet ma il valore potrà essere zero ma non significa che una volta che arriva a zero scade l'opzione e noi perdiamo il diritto concesso con l'opzione rimarrà nel nostro portafoglio fino alla data di scadenza dell'opzione quindi che succede che se il mercato ritorna sui suoi passi e torna a salire quell'opzione riacquista valore quindi magari arriva da 100 faccio per ipotesi a quasi zero non arriva mai a zero prima della scadenza arriverà a 20 10 poi a un certo punto il mercato ritorna sui suoi passi e ritorna a salire quell'opzione ritorna a 100 va a 200 300 e ci porta in guadagno quindi in pratica noi basta che la teniamo nel nostro portafoglio al massimo si a zero sappiamo già quanto perdiamo ma non possiamo essere preda degli stop hunter questa cosa qui è il grande vantaggio delle opzioni ragazzi qui se io avessi acquistato per esempio un'opzione su bitcoin anche quando bitcoin andava giù a 35 qui la mia opzione sarebbe stata vicino al valore zero magari faccio per ipotesi ma io avrei conservato comunque l'opzione in portafoglio fino a scadenza e ipotizzando una scadenza insomma più lunga quando il mercato andava magari in una direzione a favore io avrei ripreso il con la mia opzione il mio capitale e magari anche guadagnato c'è un costo però ovviamente per fare questo perché come vedete questa struttura questo vantaggio che le opzioni ci danno è una magia tra virgolette è veramente molto conveniente per quanto riguarda il trading però c'è un costo cioè questo costo è dato dal prezzo dell'opzione che anche in termini di tempo è maggiore rispetto a quello che sarebbe a livello di mercato faccio riferimento al mio precedente video ragazzi quello che vi dicevo di andare a seguire per comprendere come funzionano i meccanismi legati alle opzioni quindi studiate quel corso sulle opzioni allora cosa succede se io ho un'opzione che mi dà il diritto di acquistare bitcoin per esempio a 35 mila dollari anzi immaginiamo adesso a 38 mila dollari perché siamo vicini a 38 e 7 allora in questo momento bitcoin vale 38 e 7 cosa significa 38 scusate 3 cosa significa significa che il prezzo dell'opzione dovrebbe essere 300 dollari perché a strike 38 quindi l'opzione mi dà il diritto di comprare bitcoin a 38 e 38 e 3 è il prezzo attuale di bitcoin quindi io dovrei pagare in questo momento prezzo di mercato l'opzione circa 300 dollari questa cosa non è così la pagherò di più perché la pagherò di più perché chi vende le opzioni si pagherà questa volatilità che c'è dentro al mercato si pagherà il prodotto che vi sta dando e vi dà un prodotto che appunto se voi comprate in questo momento non potete mai essere stoppati cioè voi pagate solo il prezzo dell'opzione e basta l'effetto leva e tutto il resto quindi vi fa pagare il tempo la rischiosità e la volatilità del mercato questa cosa e tutte queste cose messe insieme creano un markup sul prezzo dell'opzione e fanno sì che l'opzione costi di più in effetti facciamo proprio questo esempio andiamo sul coin collo per esempio e prendiamoci l'opzione in questione un'opzione su bitcoin che deve essere un'opzione lo collo perché è quella rialzista per esempio a scadenza il 29 di dicembre e andiamo a vedere quella a 38.000 quanto costa ragazzi costa 2.000 2.300 dollari circa 2.390 2.300 insomma dall'altra parte ha un costo vedete che lo spread per esempio adesso non so se riuscite a vedere vediamo se vi ingrandisco un po' l'interfaccia lo spread a volte vedete si allontana poi si riavvicina quindi anche qui quando farete degli acquisti fate molta attenzione andare a mercato quando utilizzate le opzioni utilizzate sempre meglio utilizzare il limit price o aspettare vedete che come in questo caso lo spread si sia riandato a colmare perché a volte lo fa a volte no ovviamente questo è normale in alcune questioni su alcuni tipi di derivati come quello attuale quindi mi raccomando questa anche tecnica dell'acquisto eccetera però in questo caso capite bene che io ho 2.000 dollari 2.000 dollari di opzione di costo dell'opzione in più rispetto al prezzo di mercato quei 2.000 dollari cosa sono? Sono l'insieme di tutte queste questioni qui che vi sto dicendo e qui quindi anche il fatto che io vado a comprarmi per esempio 2.000 dollari di opzione in questo momento su bitcoin significa che io avrò uno stop massimo a 2.380 2.390 dollari quindi meno di più di quello io non potrò mai perdere quindi se io mi compro un bitcoin in questo momento con un'opzione su bitcoin intanto pago 2.390 dollari per avere l'esposizione ad un bitcoin intero ragazzi e poi fino al 29 dicembre se bitcoin arriva a 60.000 dollari io prendo tutto il differenziale che c'è tra l'attuale prezzo e i 60.000 se bitcoin va a 0 io perdo solo 2.300 e passa dollari adesso sta un po' salendo va bene allora in questo è ovvio ragazzi che ha un costo cioè cosa significa? che nello scenario più realistico bitcoin che magari non arriva a 60.000 ma arriva a 40.000 io dovrò andarmi a calcolare il mio prezzo ok di break even in questo caso infatti se io metto qui l'acquisto di questa opzione a 38.000 dollari di bitcoin vedete cosa succede il profit loss di coincollo vi dice che a 40.000 e 3 andiamo in break even quindi 40.000 e 3 è il prezzo che noi dobbiamo avere su bitcoin per andare a break even di questa opzione e invece vedete vi dà anche il mass stop loss che è 2.000 e 3 e il break even vi dice che è 40 mentre il profitto massimo è illimitato quindi io mi sto giocando una scommessa e dico bitcoin deve salire almeno almeno ragazzi a 40.000 e 3 per giocare questa partita io ho uno rischio limitato ai miei 2.000 dollari per 2.300 dollari per singolo bitcoin ma un profitto illimitato fino alla scadenza dell'opzione quindi questa è una partita che ha vedete tutte le caratteristiche possiamo decidere se volete giocare o meno però se io ipotizzo che bitcoin potrebbe andare a 42.000 dollari proprio verso la fine del mese di dicembre perché magari approvano gli etf e gioco quello scenario in base alle mie strategie potrei decidere appunto di fare quella strategia che si chiama proprio buying call option e in questo caso potrei anche decidere non di acquistare magari un'opzione così vicina al prezzo attuale che magari è anche un costo maggiore ma potrei decidere di andarmi a scegliere una opzione call una buy call a uno strike price più alto ragazzi quindi non 38 ma magari un 40.000 perché perché la paghiamo di meno vedete quella 40.000 in questo caso costa 1.500 dollari quindi se io vado a rivedermi il mio grafico di prima mi dice che anche qui avrò un break even price a 41.000 questa volta però una position mass loss quindi una massima posizione di stop loss molto più piccola per un guadagno illimitato ovviamente meno stop loss abbiamo più il break even starà lontano quindi c'è sempre ovviamente una trade off e bisogna andare a ragionare su queste cose ma a questo punto allora c'è modo anche di abbassare il costo che io vado a pagare sull'opzione abbiamo visto che se vado a comprarmi un'opzione diciamo che la più in questo momento la più forze attuabile potrebbe essere quella a 39.000 immaginiamo di andare a comprare un'opzione a 39.000 di strike quindi una colla a scadenza 29 dicembre con strike price 39.000 mi dice in maniera chiara che il break even price sarà a 40.000 875 e il mio rischio è accettabile in questo caso perché è quasi 2.000 dollari un po di meno 1.800 e 75 dollari vedete la struttura del rischio ma c'è modo a questo punto di dire io questi 1.800 dollari che pago oggi per giocare questa opzione cioè bitcoin sopra i 39.000 e sopra 40.000 e 9 io vado in break even e quindi ovviamente per guadagnare devo dire bitcoin a fine dicembre deve essere a 42 no perché così ho guadagnato altrimenti non ha senso c'è modo di giocare anche un'altra partita di far abbassare il costo di questa opzione sì e questo modo si chiama bull spread quindi a comprare una option che si call bull spread fare uno spread in pratica ragazzi con la call bull spread io ho questo abbasso il livello di break even e mi blocco il massimo profitto possibile cioè faccio in modo che il max profit venga cappato perché io qui su questa opzione che vi ho fatto vedere ho sempre il max profit unlimited se io dico questo max profit non lo voglio unlimited perché tanto comunque non credo che bitcoin al fine di dicembre arrivi oltre 45.000 dollari per esempio io cosa vado a fare vado a vendere una opzione call e la vendo si può vendere allo scoperto anche l'opzione e in questo caso il premio dell'opzione non lo pago lo incasso e servirà a far sì che il mio break even point venga ridotto per esempio ragazzi qui vedete io ho un break even point di 40.000 e 8 se vado a vendere un'opzione su bitcoin che ha uno strike molto più alto sempre una call devo vendere ragazzi e mi raccomando ad esempio questa qui 45.000 dollari questa è una call a 45.000 dollari su bitcoin di strike price mi paga vedete 500 dollari quindi io in questo caso se io qui la vado a vendere e possiamo anche venderla possiamo non dobbiamo a forza comprare ragazzi possiamo vendere questa opzione in pratica io questo pricing che vedo in questo punto lo incasso e in pratica cosa succede che avrò pagato 1800 dollari la mia opzione rialzista quella che mira a guadagnare ma avrò venduto un'opzione a spread con un strike price molto alto e creando appunto questo spread e quel prezzo dell'opzione che vendo l'ho incasso quindi io in pratica ho un totale pagato di invece di 1800 di 1300 e questa cosa qui mi fa abbassare il mio price di quello che vedete qui il mio break even price in pratica a quel punto io avrò il break even price che vedete qui abbassato di 500 dollari quindi non sarà più 40.000 870 ma sarà 40.000 370 in questo modo il mio rischio totale sarà limitato a 1.370 circa totali su questa opzione quindi vendita di una opzione call a 45.000 di strike price e acquisto di un'opzione call a 39.000 di strike price entrambe con la stessa scadenza 29 dicembre prossimo e quindi in questo caso ho creato questa strategia che si chiama bull spread una strategia fichissima dove io in pratica vado ad avere un break even price di 40.000 e 3 ho un guadagno che è limitato ma non illimitato io guadagno ragazzi da 40.000 e 3 fino a 45.000 quindi comunque 4.700 dollari di guadagno cioè il differenziale tra lo spread che è lo strike price che abbiamo venduto e lo strike price che abbiamo comprato più il costo insomma che paghiamo quindi sostanzialmente questo differenziale mi dà il cap rialzo che comunque è tantissimo mentre io avrò quindi un rischio di 1.300 e un potenziale guadagno di 4.700 ragazzi questa cosa qua si può creare attraverso le opzioni ovviamente cosa succede? succede che tutto questo meccanismo si basa sulla probabilità e che quindi la probabilità che bitcoin superi 40.000 e 3 non è altissima come quello che bitcoin magari resti in un limbo fra 37 e 39 ecco perché il in un unico mese c'è questa possibilità che si può sfruttare con le opzioni perché noi giochiamo sul tasto di probabilità e anche chi vende le opzioni gioca su questo tasto di probabilità però queste sono strategie due strategie una che ha guadagno infinito ma un po' costosetta l'altra invece che ha un guadagno meno infinito ma considerate che comunque la strategia scadrebbe a fine dicembre quindi magari lasciare un guadagno infinito non ha molto senso in questo caso ci conviene diciamo limitare il costo di questo investimento in questo modo noi invece abbiamo la possibilità con la call boot spread di andare ad avere un costo definito e che appunto qui ci sarà il nostro 1.300 un break even a 40.300 circa per bitcoin e un massimo guadagno di 4.700 per quanto riguarda bitcoin figo eh allora fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto siamo senza stop hunting senza niente la buttiamo giù lì aspettiamo fino a mese di dicembre se siamo sopra 40.000 e 3 abbiamo guadagnato poi bisogna vedere quanto guadagniamo se siamo sotto 40.000 e 3 perdiamo un po' pochino se siamo andati a 10.000 dollari con bitcoin abbiamo comunque perso sempre e solo i nostri 1.300 dollari quindi limitando le perdite alla solo costo della strategia con le opzioni fatemi sapere cosa ne pensate se vi piacciono questi argomenti scrivetelo nei commenti che sono argomenti iper iper profissio diciamo per trader iper pro ecco diciamo così e soprattutto io cerco di rendervi molto semplici ma vi assicuro dietro ci sono complessissimi ragionamenti quindi è veramente difficile se non avete compreso qualcosa scrivetelo nei commenti e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti